Cabras, un importante risultato è stato raggiunto sul fronte dell'emergenza sanitaria che vede circa 2.500 cittadini attualmente sprovvisti dell'assistenza medica di base. Dopo due settimane di lavoro e di incontri tra il sindaco Andrea Abis, il direttore generale della TSA SSL Angelo Maria Serusi e i medici, a partire da oggi i cittadini senza medico potranno soffrire di un servizio speciale che sarà realizzato per 5 ore al giorno da lunedì al venerdì verso il punto della guardia medica nei locali di Via Tarros. Saranno presenti due medici per turno che, oltre alle normali prescrizioni, potranno provvedere alle richieste di visite specialistiche, ai farmaci, dei piani terapeutici e alle altre incombenze ordinariamente a carico del medico di famiglia. Il direttore generale Serusi ha intanto presentato alla regione Sardegna la richiesta per l'ampliamento del tetto massimo del numero di pazienti per i medici di famiglia che potranno accogliere fino a 1.800 pazienti. Si potrà tuttavia procedere con le richieste di iscrizione al nuovo medico solo dopo l'autorizzazione da parte dell'assessorato regionale alla sanità. Intanto la TS ha comunicato che entro la prossima settimana verrà pubblicato il bando per la sostituzione dei due medici di base che di recente sono andati in pensione, così da riempire i due posti vacanti e fare in modo che la situazione possa tornare alla normalità. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato intensamente con la ASL e con i medici di famiglia operanti a Cabras per cercare di trovare soluzioni efficaci al grave disservizio subito dai nostri concittadini. In questo momento di grandissima difficoltà generale è stata messa in piedi in tempi molto rapidi un'organizzazione alternativa con l'ampliamento delle prestazioni dei medici di guardia medica che fin da subito limiterà al minimo i disagi all'utenza. Voglio personalmente ringraziare i medici della guardia medica di Cabras e la dirigenza ASL per questo importante risultato, ha dichiarato il sindaco di Cabras, Andrea Abis.